Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo della nuova Ferrino Rift 2, tenda da trekking di nuova concezione di casa Ferrino, di cui adesso insieme vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito a dare le caratteristiche di questa Ferrino Rift 2. Parliamo di una tenda a doppio telo autoportante, con una colonna d'acqua di 2500 mm per il catino e 2000 mm per la parte di telo esterno. Il tutto per un peso minimo dichiarato di 2 kg. Adesso che abbiamo visto le caratteristiche, iniziamo con il nostro consueto giro attorno alla tenda per vederne i pregi e difetti. Iniziamo con il nostro consueto giro attorno alla tenda, partendo da questo lato. Allora, nella parte bassa, vabbè, cosa troviamo? Il picchetto, da andare a picchettare che abbiamo fatto prima, e poi la congiunzione tra la paleria, il telo interno e il telo esterno, con la possibilità della fibia per andarla a tirare. Vi farei notare che in questo punto, dove naturalmente c'è un sacco di pressione perché abbiamo tirato la tenda, Ferrino è andato a mettere una cucitura aggiuntiva per evitare casi di strappi, quindi molto brava. A metà tenda, più o meno in questo punto, e ne abbiamo un altro anche a metà sopra, sono presenti anche due velcro per andare ad attaccare il telo esterno con la paleria. Questo naturalmente è da fare prima di montare la tenda. A metà poi troviamo una semplice fibietta, dove possiamo andare ad aggiungere dei cordini, non dati in dotazione in questo caso, per aumentarne la stabilità in caso di forte vento. Continuiamo, abbiamo in questo caso a metà della nostra parete il cordino che è dato in dotazione per andare a tirare la tenda, che volendo, se siamo bravi a tirarlo, possiamo fare anche passare nella fibia che c'è qua in basso, quindi con un cordino riusciremo a tirare bene tutta la tenda. Da notare anche qua la cucitura aggiuntiva con una parte di tessuto aggiuntivo per evitare strappi. Poi alla fine diciamo che è abbastanza tutto identico, qui troviamo l'altro picchetto con tutti i finali del telo esterno in telo interno e paleria, e la fibia da tirare con la stessa cucitura, quindi molto molto simile. Continuiamo, da quest'altra parte c'è la prima delle due porte e qui troviamo la prima finestra, in questo caso già aperta, però è una finestrella che noi possiamo benissimo chiudere ed è per la reazione, quindi per evitare la condensa. Molto facile da aprire, si riesce ad aprire anche dalla parte interna, all'interno è presente della zanzariera e abbiamo la prima finestra. Continuiamo, poi i due lati sono praticamente identici e simmetrici, quindi qui abbiamo tutte le feature che abbiamo visto dall'altra parte, compreso il cordino in alto per tirarla ulteriormente, cordino a metà dato in dosazione da ferrino per tirare la tenda e stabilizzarla, e infine ultimo palo che è uguale agli altri, quindi tutto abbastanza simmetrico. A questo punto che siamo tornati davanti, vi faccio vedere che innanzitutto qui c'è la seconda finestra, quindi troviamo una su entrambe le porte che in questo momento io posso andare anche ad aprire, ed eccola qua, e detto ciò adesso possiamo iniziare guardando una delle due absidi che naturalmente sono identiche, quindi vediamo una delle due porte. Vi faccio vedere la prima porta, innanzitutto la parte bassa è picchettata solo sul palo che in teoria resta attaccato, poi vi faccio vedere che si può aprire comunque. Troviamo tre strap dove noi possiamo andare ad alleggere la pressione sulla nostra cerniera, cerniera molto liscia, con doppio cursore, quindi ottimo anche per aprirla. Vado a far su la nostra parete e questa è la prima abside, troviamo un abside che è più o meno grande, una sessantina di centimetri, non di più. Uno zaino anche di grosse dimensioni ci sta, se dovessimo cucinare riusciamo abbastanza facilmente, quindi nessun problema. Come potete vedere, soprattutto da quest'altra parte, c'è abbastanza spazio tra la porta e il pavimento. Questo cosa vuol dire? Che a nostra descrizione possiamo decidere se far passare più aria, quindi tenendo la porta più sollevata da terra, oppure meno aria tenendo più vicino alla porta al terreno. Quindi in base alla notte che andiamo a trovare possiamo decidere. Ultima cosa, prima di entrare dentro, vi faccio vedere che tirando via il picchetto, noi possiamo benissimo far su anche quest'altra porta, ed in questo modo praticamente abbiamo la tenda completamente aperta. Adesso la apriamo, anche lei con doppio cursore, un'apertura abbastanza generosa devo dire, cioè c'è veramente tanto spazio per poter entrare. Facciamo su anche lei e a questo punto tenda aperta e vi porto dentro a vedere com'è. Siamo all'interno della tenda, innanzitutto parliamo di dimensioni. Troviamo una tenda che è lunga 210 cm x 130 cm. Diciamo che è 10 cm in entrambe le direzioni più grossa rispetto a una tenda standard. Questa cosa vuol dire che in lunghezza una persona di 2 metri a dormire ci sta tranquillamente, anche con un materassino che la alza. Per quanto riguarda la larghezza, volto bene questi 10 cm in più, perché di solito i materassini standard sono a 60 cm di larghezza, quindi abbiamo un 10 cm che avanzano, ed è un po' di spazio in più dove poter andare a riporre qualche oggetto quando dobbiamo dormire. Quindi a livello di dimensioni, molto bene. Ma non solo, anche per quanto riguarda l'altezza, vi faccio vedere, io ho praticamente quasi una spanna sopra la mia testa. Questo vuol dire che sicuramente raggiungiamo almeno il metro. Quindi davvero a livello di abitabilità, anche allargando le braccia, vi assicuro che c'è tanto tanto spazio. È una tenda molto vivibile, è una tenda in cui in due si sta molto bene. Non è una tenda in cui ci si viene addosso o comunque si ha difficoltà anche magari a cambiarsi. Per quanto riguarda i materiali, il catino, come dicevo, 2500 colonne d'acqua. Le cuciture sono fatte veramente molto molto bene, termonastrate in molti casi anche doppie, quindi fatto molto bene. Ottime anche sui quattro angoli del catino, perché lì sono proprio super rinforzate per evitare strappi. E nella parte superiore degli angoli troviamo anche tutta una parte, diciamo, a forma di piramide, che va a distribuire meglio la pressione della tenda ed anche un pochino a isolarci dal vento, perché comunque troviamo una parte di tessuto. Per quanto riguarda la condensa, allora diciamo che ce n'è veramente poca. Sia per il fatto che è una tenda a doppio telo, sia per il fatto che abbiamo comunque delle buone finestre che vanno ad areare. Poi, come vi dicevo, possiamo decidere noi se tenere più alto o più bassa la porta esterna in modo tale da far passare più o meno aria. Però io ci ho dormito anche in una notte vicino a un fiume, in un punto veramente molto umido, e di umidità ne abbiamo avuto all'interno della tenda veramente poca. Per quanto riguarda lo stoccaggio dei nostri oggetti, telefono, occhiali, eccetera, troviamo solo due tasche messe in punti completamente opposti della tenda, e solo quelle due molto piccole, e quindi, a mio parere, Ferrino poteva impegnarsi un pochino di più, soprattutto poteva impegnarsi un pochino di più a mettere qualche tasca nella parte superiore. Perché nella parte superiore, completamente chiusa da il telo, in modo tale che non cada la condensa se dovesse formarsi, e lì c'era veramente spazio dove poter mettere una successiva tasca, rete, dove poter riporre dentro tanti oggetti. Ne sento la mancanza, davvero. L'avessero messa se avessero stata quasi perfetta questa tenda. In compenso, però, nella parte superiore, ritroviamo il gancetto dove andare a prendere una lampada per illuminarci di notte. Infine, per quanto riguarda l'impermeabilità, beh, vi ricordo che ho già fatto il video dell'impermeabilità, ve lo lascio qua in alto a destra, andate a vederlo, perché con questa tenda abbiamo fatto un temporale veramente forte, in alta montagna, e comunque ha retto bene. Detto ciò, arriviamo alle conclusioni per questa Ferrino Rift 2. Viene venduta a un prezzo ufficiale di Ferrino di 280 euro, online si trova già attorno ai 220 euro. Ve la consiglio? Sì. Sì, per diversi motivi. In primis, la qualità dei materiali. Comunque, Casa Ferrino, un brand che fa tende da tantissimi anni, nulla da invidiare, quindi una qualità dei materiali ottima. Secondo, per lo spazio all'interno. Una tenda molto vivibile, una tenda che in due ci si sta dentro veramente molto bene, anche se dovesse piovere all'esterno, e piovere magari anche per diverse ore, e aver bisogno di cambiarsi all'interno, cucinare è nessun problema, quindi spazio all'interno promosso, e soprattutto anche perché questa tenda può essere usata in tanti contesti. Possiamo decidere di usarla magari a 2008 di quota, perché è autoportante, e comunque se abbassiamo bene le porte esterne di vento all'interno non ne entra così tanto, non è d'alpinismo, però comunque fa un ottimo lavoro anche contro la protezione del vento. Possiamo decidere di usarla a media quota, magari così, in questa configurazione, tenendo le porte aperte solo con le zanzariere, oppure possiamo decidere di usarla anche a livello del mare, non mettendo il telo esterno, utilizzando solo il telo interno e la zanzariera. Quindi questa è una tenda perfetta veramente per fare tantissime cose, dal bikepacking, alle alte vie, ai cammini, sì, questa tenda veramente è un acquisto che fate oggi, ma potete utilizzarla in tantissimi ambiti, e soprattutto acquistate una tenda che vi durerà tanto nel tempo. Detto ciò ragazzi, una speranza di essere stato esauramente esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per la guardata, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!